ciao a tutti ragazzi io sono sofia oggi volevo far vedere il mio angolo allora ti volevo far vedere i acqua dragons che vivono sull'acqua quindi ci serve questo che cos'è una scatolina per i pesci acqua rietto dopo qui dentro ci sono tutte le uova che metteremo dentro con l'acqua questo è il loro cibo le bustine mamma dopo la pipetta non so cosa serve ossigenare aria e dopo il cucchiaio vabbè può essere anche un cucchiaio normale non per forza così o se no usate il cucchiaio però dalla parte che non bisogna mangiare che ci serve l'acqua per metterlo ma saranno imprese perchè io se verso l'acqua mi sembra il cucchiaio vabbè che paura aiutatevi da qualcuno sale sempre di più fino a che non è finita l'acqua è finita ma è strano ok quando avete versato l'acqua adesso prendiamo le uova le prendiamo giù sull'acqua se ci riesco allora mia mamma mi ha aiutato grazie e adesso li dobbiamo un po' passare le uova aiutatevi da qui ne sto mettendo tantissime ok dopo lo mettiamo in calma ancora un pochino non è un po' passare le uova però basta che sia qualcosa e andate a mescolare li ho fatto così perchè non ne avete voluto fare va bene dopo prendete il coperchio e andate a chiudere ci rivedremo due giorni o tre giorni per vedere i mostrini ciao gli Acqua Dragons sono nati e adesso li dobbiamo colare spero che questo video vi sia piaciuto mettete tanti like e iscrivetevi al canale Sofia Scaprimondo vi mando un bacio ciao